Ehi uomo mascherato si faccia vedere venga fuori Io ho già partecipato a molte gare sono in grado di correre ancora Prenderò parte a questo rally e le assicuro che vincerò Ha capito grande campione? Takaia Todoroki ha trasformato la Katori New Sports Che gli è stata data da uno straniero per partecipare al rally Con l'aiuto di Suzuko e di Angoro che gli fanno da navigatori Tenterà di vincere il 38esimo rally della montagna Purtroppo hanno dovuto affrontare una serie di disagi e difficoltà In parte provocati da Sappon e dai suoi amici Che cercano di impedirgli di vincere la corsa Quello laggiù è on Tutto a posto potete andare a riposarvi Grazie Suzuko Non è niente sono solo stanca Takaia Devi andare subito a riposarvi ti farà bene vedrai Sono loro guarda Siete arrivati soltanto adesso? Credi che il rally sia un appuntamento galante? Vi conviene stare zitti Perché ci avete giocato per tiro? Non badate a mezzi pur di vincere questa gara vero? Perché sei così incollera? Ma che stai vaneggiando? Che ti hanno fatto Takaia? Ma lo sai che hanno montato un posto di controllo fasullo sul circuito inventandosi un rally a quiz Un rally a quiz? Domandalo a Sappon e a Wolf È vero Sappon? Sì l'ho fatto ma solo per scherzare Accidenti a te Fermi non litigate Masaru Sappon chiede scuse Come vuoi Le scuse non ci servono Abbiamo perso 40 minuti Siete insopportabili Dovete sempre usare i vostri sporchi trucchi È stata un'idea di Wolf Io volevo solo che tu vincessi la corsa Posso vincere anche senza trucchi io La mia lancia Stratos è la migliore vettura da rally del mondo E la mia abilità di pilota non è inferiore a quella di Takaia Io chiedo scusa Questo non è un episodio che si può cancellare con delle scuse Sarete squalificati Vuol dire che non faremo più parte della corsa Wolf e Suppon si assumeranno la responsabilità del loro comportamento Chiedo scusa per loro Ti prego di perdonarli Eh? Basta Non è una cosa che si possa risolvere in questo modo Ci vuole qualcos'altro Bravo Takaia, bravo Buonanotte Seguitemi Alzati Le istanze 205 e 206 sono quelle riservate a voi Oh Zuzugo, che fai? Che ti succede? È svenuta, sembra che abbia la febbre Chiami il dottore, presto? Subito signori Sono solo un po' stanca, ecco tutto Mi sei raffreddata quando sei caduta nel fiume Ma è molto calda Permesso? Entri È già arrivato il dottore? Mi dispiace, il dottore è andato a Tokyo per una riunione molto importante Tornerà sicuramente domani Questo è un bel guaio davvero Posso fare qualcosa per voi, sono a disposizione Per favore, cerchi dell'aspirina E ci porti subito dal ghiaccio Vado subito Guarirà presto? Sì, certamente Possiamo ancora raggiungerli Continua a delirare Speriamo che guarisca Takaia Sta tranquillo e cerca di dormire Ok Suzuko, come ti senti? Takaia, ti prego Vai a riposare anche tu Non devi preoccuparti per la tappa di domani Takaia Sì, Suzuko Dammi la tua energia Per favore Una specie di scambio Ecco, cara Cerca di sbrigarti Può arrivare qualcuno Takaia Takaia Qualcosa del genere Guarda, ti sembra che io stia male? È vero, non hai più febbre Sembra tutto finito Non ricordi di avermi dato la tua energia? Già, è vero E come avete fatto? Vi siete baciati, eh? Andoro, non dire sciocchezze E allora perché sei diventata tutta rossa? Vuoi stare zitto? Ah, ah, ah Presto, presto Altrimenti perdiamo altro tempo Voglio che recuperi il tempo perso ieri Partirò 40 minuti dopo La verità è che ti vuoi mostrare superiore a tutti i costi Hai ragione, più o meno è così Che presuntuoso che sei Presuntuoso Il futuro della Catori Motors dipende da questa macchina Io vorrei correre con la lancia in buona posizione Ma preferisco che sia il prototipo a vincere la gara Ok, ho capito Gira a destra dopo aver attraversato il ponte E tieniti sempre su quella corsia Velocità 40.000 Mh-mh Ehi ragazzi, ma non sentite odore di benzina Hai ragione C'è lo straniero, guardate Cosa hai detto? È su quell'elicottero Chissà che cosa vorrà adesso Ehi Lei vuole proprio assistere alla mia sconfitta Ma l'avverto che non la vedrà Perché vincerò questa corsa E non le pagherò mai i 10 milioni Accidenti a te, figlio di un cane Non perdiamo tempo, Takai Hai ragione La Stratos può arrivare da un momento all'altro Il motore sta cominciando a perdere colpe Suzuko, non riesco ad accelerare Del fumo Presto, Angoro, dammi l'estintore Eccolo Un tubo della benzina si è fuso È vero È molto strano questo in una macchina nuova Ma allora È un altro dei loro trucchi E adesso che facciamo, amici? Dovrebbe venire uno dei meccanici Ma come possiamo avvisarlo? Che vi è successo? Qualcosa che non va? Un guasto, signore Vediamo un po' Questo tubo della benzina va cambiato Le macchine della Catori sono speciali Ma questa è unica Ma è sicuro che non ci sia un rimedio? Dobbiamo vincere questa gara Conosco un'officina della Catori a tre chilometri da qui Andrò laggiù in moto a cercarvi il pezzo da cambiare Posso venire anch'io? Certo Sali dietro Quando ero bambino mio padre mi portava sempre sulla sua moto Correva come lui Senta, ha un tubo uguale a questo Ah, è per una berlina di serie, vero? Sì, una vettura della Catori Spiacente, dovremmo ordinarlo apposta Se non riesco a trovarlo sarò nei guai Mi aiuti Ma lo so che farci Ehi, che cosa sta facendo? Questo ragazzo partecipa alla gara con una macchina della Catori Motors Come? Ma non potete farlo? Un momento Ma che roba La numero sette Accaia, hai dei problemi? Vattene Non perdere il tuo tempo prezioso Bene Tutto a posto Metti pure in moto ora Pronto Evviva Muovetevi ora Non so davvero come ringraziarla Mi scusi ma Ma forse lei è Fareste meglio a sbrigarvi La Stratos è un'avversaria dura Certo Ce l'hanno fatta a ripartire Non è ancora detta l'ultima parola Guardi pure signora Il nostro pesce è degno di stare sulla tavola di chiunque Guardi Oh, eccomi, eccomi Pronto, parla vuoco Oh, sei tu, Takaia Dove sei? Siamo stati in pena per te Cosa, Takaia? Passamelo un po' Ehi tu, testa di ligno Che diavolo hai fatto in giro per tutto questo tempo? Eh, cosa? Stai dicendo che tuo padre è vivo? Certo, zio, ne sono sicuro Ma, Takaia Senti, zio, ormai sono sicuro Credo anzi di averlo incontrato oggi Sai benissimo che tuo padre è morto Cerca di non dire più simili sciocchezze E vedi piuttosto di tornare subito a casa Vendere il pesce ti rinfrescherà le idee Ma Cuzzo Dobbiamo insistere che suo padre è morto Capito? Ah, buongiorno signora Ti hanno dato le informazioni che volevi? Mio zio mi ha detto che devo tornare da lui in paese Oh, Takaia Non vorrei mica dargli retta Lo sai che tu devi correre e basta Sì, certamente Andiamo, presto Takana, vuoi che guidi io? Tu devi riposare No, grazie, va tutto benissimo Angoro, per favore, buttami un po' di acqua in testa Eccola Grazie È la macchina di super Non mi danno strada Continuano con i trucchi perché sono stati squalificati Adesso farò anch'io come lui Adesso farò anch'io come lui Sei a te, è ancora a letta Non posso arrendermi, devo farcela Ma cosa hai fatto? Come stai, Angoro? Molto bene, grazie Accidenti a voi Abbiamo saputo che tuo padre è indebitato con il padre di Masaru Ecco perché... Piantala Dobbiamo portarlo all'ospedale, subito Vuoi rinunciare alla corsa? È troppo tardi Peccato, non ce la faremo mai Ho capito, ma ora aiutami Un elicottero Penseremo noi al ferito Ritorna in gara Allora possiamo andare, riprendiamo la corsa Suzuko State calmi, tanto dobbiamo aspettare Mi sai dire che cosa è successo? La pioggia di ieri ha provocato una frana Passeremo lo stesso, la vittoria è ormai certa Ma che cosa vuoi fare? Fidati, non temerlo Non mi lascerò battere così Non mi lascerò battere così Non mi lascerò battere così Siamo arrivati, evviva! Quello laggiù è il traguardo Abbiamo battuto la lancia E io non dovrò pagare i 10 milioni Oh, sta arrivando la strada Non passerà Forse avrete già visto episodi come questo Le ruote girano a vuoto E non fanno presa sul terreno Se succede così Anche il motore più potente non serve a nulla Praticamente la potenza del motore Agisce sulle ruote solo se queste si trovano su strada Durante una gara, come sapete La cosa più importante è tenere la macchina bene aderente Alla superficie della strada Per indicare questa caratteristica Usiamo i termini di buona tenuta di strada O cattiva tenuta di strada È chiaro che tutto questo è molto importante in curva Ma purtroppo spesso viene dimenticato Per la sua difficoltà teorica Ma è una buona tenuta Che in genere fa preferire le piccole vetture Alle fuoriserie Che tuttavia hanno motori molto più potenti Come la Lamborghini Cuntat La Ferrari Dino E l'ultimo tipo di fuoriserie Della Catori Motors Non ce l'ho fatta neppure questa volta Dovrò pagare Dovrò pagare Dovrò pagare Dovrò pagare Dovrò pagare Dovrò pagare Suzuki Per favore sai dove è Takaya? Credo in camera sua Takaya! Takaya! Ma che gli è successo? Ho perso la corsa, sono stato battuto Vado a Tokyo a lavorare Guardate che ha fatto Se avessi avuto le ruote posteriori doppie non sarebbe successo Un'idea davvero molto interessante Takaya è stato battuto nel rally di montagna Riuscirà ugualmente a diventare un pilota di Formula 1? Grazie a tutti Grazie a tutti